Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qui in sala per il Day 1B del Main Event EBT di Sanremo, sala gremitissima per questo secondo giorno di torneo che si preannuncia molto più frequentato del Day 1, si prevedono circa 450 giocatori ai tavoli, come vedete è appena stato dato il segnale di dealer shuffle up and deal, si parte dunque con il primo livello 50-100, come vedete anche oggi livelli da 60 minuti, 30.000 invece lo stack iniziale, dunque un ottimo torneo, un'ottima struttura che non collasserà molto facilmente, noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti direttamente dalla sala, come sempre pokeritaliaweb.org per seguire le azioni e l'action appunto del torneo sul nostro video blog live, per quanto riguarda gli aggiornamenti video ci vediamo tra poco, ciao a tutti!